Buongiorno e benvenuti a Ci vediamo in camera, il nuovo format di informazione e intrattenimento che coinvolge ben 36 camere di commercio italiane all'estero e che fa parte di un progetto molto importante chiamato True Italian Taste, realizzato da Astocamera Estero e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ci vediamo in camera mira a valorizzare il vero prodotto autentico italiano a 360 gradi, ma anche ad analizzare uno dei problemi più diffusi che minacciano non solo l'economia del nostro paese, ma anche l'immagine dei nostri prodotti all'estero, l'Italian Sounding. Prima di presentarvi tutti gli ospiti di puntata vi presenterò il mio compagno di viaggio, lui è giornalista e critico gastronomico e dunque do il benvenuto a Luca Iaccarino. Ciao Cristiana, buongiorno. Benvenuto Luca. Buongiorno e ti ringrazio e per ringraziarti ti ho portato una tazza brandizzata, vedi ce l'hai anche tu? Ma grazie. Visto che stiamo parlando di importanza dei marchi, anche il nostro è importante. Made in Italy. Made in Italy assolutamente, da riempire con prodotti made in Italy, quello che volete dal latte al vino. Grazie. Ti ho portato però anche un'altra cosa, come sai in ogni puntata abbiamo un tema, il tema di ogni puntata è sotto questa cloche, vuoi sapere quello di oggi? Assolutamente sì. Vado, scoperchio, eccolo qua. Questo tema, adesso grazie aiutami a tirare sui barattoli e mostrarli anche. Si chiama tecnicamente il confectionary, cioè il confezionato. Sughi pronti, qua c'è il sugo. Ci sono delle eccellenze incredibili. Qui c'è un altro sugo, sì sì, guarda. Questo vassoio. Il pesto. Il pesto ligure, il ragù. Ecco, purtroppo il confectionary è uno dei prodotti più imitati, quindi oggi parliamo di questo. Fantastico. Io invece vi ricordo che ci trovate sui nostri social ovviamente, pagina Facebook e Instagram True Italian Taste, il nostro sito internet www.truitaliantaste.com e la pagina LinkedIn di Asso Camera Estero. Io direi che siamo pronti e che possiamo iniziare. Cosa ne dici? Andiamo. Andiamo. Tu ti ricordi, vero, che cos'è l'Italian Sounding? L'Italian Sounding, certo. L'Italian Sounding è un fenomeno per cui si usano parole, grafiche, colori tipo il tricolore, suoni, indicazioni geografiche che ricordano l'Italia pur non essendo, non riguardando prodotti effettivamente made in Italy. Bravo Luca! E come sappiamo questo fenomeno crea numerosi problemi non solo alle nostre economie, ma anche all'immagine dei prodotti italiani all'estero. Io direi prima di parlarne con te, di andare a vedere quanto si sa dell'Italian Sounding e allora lancio la rubrica. Eccomi Luca, sono in centro e vado a chiedere che cos'è l'Italian Sounding. Hai mai sentito parlare di Italian Sounding? No. Per quello che ne so io è la limitazione del cibo e oppure del packaging italiano all'estero. Ma secondo te perché il cibo italiano è più copiato all'estero? Eh perché il made in Italy è unico, quindi si parla talmente tanto di made in Italy che non si può imitare. Eh perché sono per la maggior parte prodotti di qualità comunque. A te è mai capitato di viaggiare? Sì. Ti è mai capitato di mangiare un'imitazione di un nostro prodotto d'eccellenza, tipo un parmigiano che parmigiano non era? Eh che io mi ricordi no. Secondo te quali sono i cibi italiani più copiati all'estero? Mozzarella, sì, lasagna, anche la pasta tantissimo. Beh mi viene in mente la pasta oppure non so, qualche condimento tipico oppure formaggi. Secondo te ci vorrebbe più informazione? Sì, secondo me sì assolutamente. Anche perché né in rete dove navigo spesso né in tv mai siamo un po' mai sentito parlati di questo fenomeno. Per cui sì, assolutamente sì. Ti farebbe piacere avere l'informazione. Sì, 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 ovvio. Luca, ci colleghiamo subito con i segretari generali delle Camere di Commercio italiane che vedo già in collegamento e in particolare con Fabrizio Macri da Zurigo, Fulvio Calcinardi da Chicago e Ruggera Sarcina da Montreal. Benvenuti a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Sarcina, la prima domanda che le faccio è questa. Per difendere il Made in Italy dall'Italian Sounding prima di tutto bisogna averlo il Made in Italy. Che consiglio darebbe, rivestendo la sua funzione, a un piccolo produttore che volesse affacciarsi non alla grande azienda che già sa come farlo, ma invece un piccolo produttore che volesse affacciarsi al mercato estero, in particolare quello canadese, cosa potrebbe fare? Il mercato canadese in particolare, noi siamo a Montreale, quindi Quebec è la provincia come dire francofona del Canada, quella che ha come dire più tipicamente gusti e propensione al consumo molto europei. Quindi è anche abbastanza diversa dai nostri vicini. È un mercato maturo, un mercato molto competitivo, che può dare grande soddisfazione al Made in Italy agroalimentare, anche a quello di piccoli e piccolissimi produttori, anche a prodotti di nicchia, però è chiaro che per affrontare un mercato come il nostro, quindi maturo, competitivo, quello che non funziona sono, come dire, attività spot di ci provo. Quello che funziona invece, quello che bisogna fare, anche un piccolo produttore deve essere consapevole di questo, ci vuole una strategia, ci vuole, come dire, un obiettivo da raggiungere in un arco temporale che è almeno medio, quindi capire prima di tutto se è un prodotto adatto al mercato, che cosa richiede il mercato e come lo devo posizionare, dal punto di vista tecnico-normativo, se ho bisogno di fare degli adattamenti, a cominciare dall'etichettatura, devo avere quindi consapevolezza di quelle che sono le regole del gioco di quel mercato e quali sono le opportunità di mercato. Vado a Chicago da Calcinardi per farle un'altra domanda. Quanto è inciso la pandemia sul consumo di prodotti italiani? La pandemia ha avuto, dipende un po' dagli Stati, qua negli Stati Uniti è stato molto variegato l'impatto del Covid a seconda dello Stato, a seconda delle tipologie di governi locali da noi, in Illinois c'è stata una penalizzazione molto forte nel settore della ristorazione, per cui tutti i prodotti che erano un po' dedicati ai ristoranti hanno subito un danno molto grande, invece i prodotti dedicati ai supermercati sono andati bene e in ogni caso, poi a seconda appunto dello Stato, in Texas o in Florida ci sono state dinamiche diverse, ancora tutt'oggi ci sono dinamiche diverse, di sicuro l'America è ripartita, quindi il messaggio che vorrei anche dare oggi, la ristorazione appunto è ripartita, la vita è abbastanza normale. Le due cose fondamentali per combattere i fenomeni di cui stiamo parlando sono, secondo me sono due, uno è avere il prodotto, come diceva giustamente il collega prima, e l'altro è l'educazione. In questi giorni, durante la nostra trasmissione, stiamo tentando di capire se le tecnologie possono aiutare a riconoscere il cibo italiano autentico attraverso passaporti digitali, attraverso QR code, attraverso la blockchain, cioè certificati digitali in blockchain, crede che A ce ne sia necessità e B sia efficace utilizzare strumenti di questo tipo per riconoscere il made in Italy vero? A me è toccata la domanda più difficile, diciamo questo, il tema della blockchain è estremamente attuale in Svizzera, ovviamente come nel resto del mondo occidentale, il fatto di applicarlo alla tracciabilità del prodotto credo che sia una prospettiva interessante, se lei mi chiede se adesso questo può avere un impatto perlomeno sulle politiche promozionali credo che sia ancora troppo presto, non è una pratica che si è affermata e conosciuta sul mercato come tale, se ne inizi a parlare, credo che il made in Italy potrebbe senz'altro beneficiare, visto che il True Italian Test non esisterebbe se non fosse il prodotto italiano tra i più invitati al mondo, però sicuramente per quanto riguarda l'approccio promozionale che la Camera sta seguendo, siamo ancora lontani da utilizzare quel tipo di tecnologie. Ecco, a questo proposito parlava appunto di imitazioni, cioè la Svizzera è naturalmente un paese vicino all'Italia dove la cucina italiana anche a causa dell'immigrazione dall'Italia è molto diffusa, sia nei ristoranti che sugli scaffali della GDO, quali interventi prevedete, poi lo chiederemo anche ai suoi colleghi, quali interventi avete in atto per tentare di arginare i prodotti che sembrano italiani ma non lo sono? Ma guardi, noi sostanzialmente utilizziamo un approccio triplice, e cioè da un lato seguiamo il canale tradizionale che seguiamo in tutte le altre iniziative promozionali e che è proprio anche l'iniziativa True Italian Test, che è semplicemente un approccio B2B tra produttore italiano e potenziale importatore, e questo direi che è una costante delle nostre attività. Il secondo aspetto è quello di valorizzare gli stessi importatori, e cioè gli specialisti svizzeri di prodotti italiani hanno ovviamente interesse a essere riconosciuti sul mercato svizzero come specialisti di Made in Italy, perché ovviamente temono il fenomeno dell'immigrazione e l'importatore diciamo che cerchiamo di vederlo più che come un compratore, come un venditore, cioè l'approccio secondo noi innovativo su un mercato maturo come questo deve essere quello di sostenere l'importatore ancora prima del produttore, nel senso che il produttore riuscirà ad avere un accesso al mercato se la filiera dell'importazione è una filiera in salute, quindi diciamo che è molto importante sostenere il prodotto italiano che è già presente sul mercato e qualificare gli importatori come degli ambasciatori di prodotto originale. Il terzo approccio è un approccio B2C, ovviamente è quello più complicato e più dispendioso che noi cerchiamo di ottimizzare attraverso l'utilizzo di un intermediario abbastanza efficace che è quello di influencer, che è quello della sensibilizzazione del consumatore finale. Però ecco, anche qui probabilmente il consumatore finale non si fa tanto sensibilizzare da noi in quanto Camera di Commercio italiana, perché ovviamente essendo italiani, essendo espressione dell'economia italiana siamo biased in qualche modo, ma si fa convincere dallo svizzero che è uno specialista dei prodotti italiani. Quindi è importante direi che il messaggio deve essere questo secondo me per il futuro e anche per le politiche promozionali future, quello di non investire soltanto sul B2B ma investire sul sostegno alla distribuzione locale per valorizzarne la specializzazione in prodotti italiani. Sarcina, le faccio un po' la stessa domanda, cioè come riuscite a monitorare e quindi eventualmente a contrastare il fenomeno da voi? È importante ricordare la premessa che facevo prima, ovvero che il Quebec ha dei modelli di consumo molti europei. Questo che cosa significa? Significa che mediamente il consumatore canadese riconosce un prodotto autentico come il di Nitali rispetto ad uno finto. In realtà uno finto sul nostro mercato è soprattutto un prodotto, come dire, prodotto da produttori locali di origine italiana. Quindi ha un legame in qualche modo culturale con l'Italia. Diciamo, l'immigrazione italiana, poi gli imprenditori italiani sono stati, dico paradossalmente anche come dire, i primi promotori, diciamo, di prodotti che ricordavano il territorio di origine e hanno contribuito in qualche modo a costruire anche il gusto per il made in Italy. Il made in Italy continua ad arrivare, il made in Italy ha avuto grandi soddisfazioni anche nell'anno della pandemia. Sono andata a vedere qualche dato. Rispetto all'importazione totale dall'Italia, siamo passati nel 2020 da 690 milioni a 814 milioni di dollari canadesi. Quindi c'è stato un incremento, nonostante una politica molto forte in Canada, in Quebec in particolare, che, come dire, soprattutto nel periodo peggiore, diciamo, della pandemia, promuoveva il, come dire, il buy local. Però per il canadese, meglio, per il quebeccese, meglio, diciamo, la spesa settimanale include anche prodotti made in Italy. Nell'area, se andiamo poi a vedere nel dettaglio alcune categorie di prodotti, a cominciare da quella a cui è dedicata questa puntata, confectionery, che poi in realtà dentro ci avete messo non solo la parte, diciamo, di dolci, ma i prodotti da forno, le pizza, la pasta, eccetera, sono tutti segmenti, sono tutti comparti che sono cresciuti nell'anno della pandemia. Non solo, ma è aumentato, come dire, la quota di mercato dell'Italia, rispetto ad altri competitor. Quindi, ecco, il chebeccese medio riconosce un prodotto autentico made in Italy, non post'altro che ha una fascia di mercato più alta, naturalmente, quindi sa che costa di più, però ha una qualità maggiore. Calcinardi, torno da lei, perché leggevamo io e il mio collega Luca che Chicago si è autoproclamata capitale della pizza. E questa cosa ci ha un po' incuriosito. Tra l'altro abbiamo letto, insomma, non è la stessa pizza, diciamo. Ecco, cosa ci dice? Dipende appunto da quale pizza stiamo parlando. Chiaramente la definizione di pizza è molto variegata. No, però devo dire che è un prodotto molto conosciuto. Qua negli Stati Uniti c'è una forte componente di emigrazione che nasce dalle guerre. Alcuni prodotti sono molto forti, anche a livello tradizionale, incluso la pizza, per cui non è una cosa che mi stupisce. È assolutamente fondamentale lavorare assieme agli importatori, lavorare assieme agli influencer, chi ha una grossa componente anche di follower sui social che possono andare a comunicare i concetti di qualità italiana per quello che veramente è, inclusa anche la pizza. Perché una pizza fatta bene e con prodotti italiani autentici è diversa da una pizza non fatta in questo modo, chiaramente. Grazie per essere stati con noi da ogni parte del mondo, insomma. Quasi ogni parte del mondo. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Buon lavoro a tutti e tre. Grazie davvero e buon lavoro. Ma adesso andiamo dall'altra parte del mondo e ci colleghiamo con le Camere di Commercio Italiane all'estero di Amsterdam, dove troviamo Nicoletta Brondi e della Corea del Sud con Jacopo Giuman. Buongiorno a tutti e benvenuti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, anzi, buon pomeriggio da seguire. Giustamente. Giusto, giusto. Questo è il bello di essere collegati con tutto il mondo, di avere posti diversi, ore diverse, climi diversi. Brondi, parto da lei, parto da vicino. L'Italian Sounding, immagino, sia un problema anche nei paesi vicini all'Italia. Lei ad Amsterdam vi capita di trovare i negozi, i supermercati, i ristoranti, prodotti che sembrano italiani ma non sono? E come no, come no. No, è vero, siamo vicini, il mercato è un mercato quasi domestico. Ci scontriamo però con una cultura, quella olandese, che ha forse meno tradizioni rispetto a quelle italiane. Loro non hanno una grossa tradizione gastronomica. Sono molto aperti alla sperimentazione, ai nuovi prodotti, alle nuove cucine e quindi ospitano ristoranti di tutti, provenienti da tutto il mondo e nei supermercati si trova veramente di tutto. Nel senso che se vuoi cucinare indiano, piuttosto che cinese, piuttosto che giapponese, trovi tutto. Però questa loro, diciamo, carenza di base fa sì che siano un po' meno portati ad avere un giudizio qualitativo del prodotto. Cioè, io faccio il paragone con gli italiani. Noi ce l'abbiamo proprio nel sangue. Quando mi incontro, non so, sarà che noi siamo tutti, a tutti i miei amici piace mangiare. Quindi quando ci incontriamo a cena, non solo prepariamo delle chicche magari trovate o portate dall'Italia, ma ci ritroviamo a parlare di ingredienti e c'è proprio una conoscenza, pur non essendo dei tecnici, c'è una conoscenza che ci deriva proprio dalla nostra cultura, dalla nostra italianità, no? Quindi riconosciamo la qualità dell'olio, o apprezziamo un certo vino, o non mischieremo mai alcune cose perché non si fa. Mentre qui hanno meno questa cultura. Senta, mi scusi, le chiedo solo un piccolo dettaglio. Cioè, lei ha parlato di grande distribuzione. Il tema di oggi è il confectionery, cioè i cibi pronti, i sughi pronti, in scatolati, congelati, il fresco. È una delle maggiori vittime dell'Italian Sounding. Vi capita nei vostri negozi di trovarne parecchi? Sì, cioè, forse non come oltreoceano, ma sicuramente sì. Quando abbiamo fatto, diciamo, quando siamo andati con le mie ragazze in giro per i supermercati, ci trovavamo a fare foto di nascosto, a cose improbabili, tipo un sugo per la pasta, che credo sia di una marca, se non ricordo male, è una marca tedesca, che hanno chiamato Spagheroni. Spagheroni, ne abbiamo già sentito parlare. Io quando l'ho visto ho detto, ma questo, per non parlare poi degli abbinamenti che fanno. Io sono genovese, il pesto non si tocca, e questi me lo mischiano con il pollo, e fanno questi piatti pronti e improponibili. Andiamo anche da Jumanin a Seul. Che cosa accade in materia invece? Beh, allora, purtroppo l'Italian Sounding è un fenomeno che colpisce anche la Corea, anche se comunque è molto lontano dall'Italia, però si trovano diversi... Devo dire che è un fenomeno abbastanza comunque limitato. Anche qua la cultura del cibo non è così, nel cibo, diciamo, quello che viene dall'Europa, quindi non il cibo orientale, è parecchio diversa da quella nostra. Quindi anche qua fanno dei miscugli abbastanza improbabili. Io vedo a volte mangiare, non so, la torta prima di un piatto di pasta. Ecco, questo è il livello che a volte viene raggiunto. però devo dire che sono anche molto fedeli all'originalità dei prodotti. Quindi ci sono, magari anche per problematiche riguardanti le limitazioni e le importazioni, però diciamo che non siamo messi così male, ecco. Allora, nel frattempo è arrivata anche la vostra collega Rachele Grassi da Sydney, che io farei entrare in collegamento con noi, così si unisce alla nostra conversazione. Buongiorno Rachele, se ci sente, l'aspettiamo in linea. Eccola, buongiorno, ben arrivata. Buongiorno, buongiorno. Senta, la coinvolgiamo subito nel discorso, perché il suo collega Juman stava parlando del fatto che in Corea c'è una grande diffusione dei sughi pronti che sembrano italiani, ma italiani non sono del tutto. Capita anche nel vostro paese, visto che oggi parliamo proprio di questi, di preparati, di confectionery. Sì, in Australia, l'Australia forse merita un cappello a parte, proprio perché è un paese con un'immigrazione molto, molto lontana. E quindi, come tutti i paesi con un'immigrazione così antica, così longeva, anche ovviamente l'Italian sounding fa parte della vita di tutti i giorni degli australiani. Io ho vissuto per alcuni anni in Asia e una delle più grandi differenze che ho notato e uno dei più grandi sciocchi che ho esperito è stato proprio questo, che mentre in Giappone dicevo sono italiana e tutti erano entusiasti, qua dico sono italiana e tutti, ah sì, anch'io. E quindi l'italiano qua non è qualcosa di particolare o diverso perché fa parte proprio delle abitudini di vita e ovviamente anche alimentari del paese, ovviamente con tantissimi prodotti locali. Ma senta Grassi, perché appunto il tema sull'Italian sounding è proprio un po' questo, cioè è nato di fatto con l'immigrazione degli italiani, quindi immagino che nel suo paese sia molto diffuso. Difusissimo, ma infatti progetti come True Italian Taste hanno un senso importante e possono essere sfruttati a pieno secondo me proprio per lo scopo educativo perché qua l'australiano medio sa che la pasta si mangia al dente, sa che la pizza è un po' bruciacchiata per cui un prodotto non fa scalpore solo per il fatto di essere italiano. Cristiana, permettemi di chiedere a Juman, vedo che dietro di lei c'è il marchio di Extraordinary Italian Taste. Siamo in un momento in cui la cultura italiana è innamorata di quella coreana. Forse la cultura coreana non è mai stata così popolare in Italia, penso alle serie televisive, al cibo, al cinema. È vero il contrario, cioè è vero il reciproco e il progetto Extraordinary Italian Taste permette di continuare a diffondere questo amore? Sì, so che c'è questa diffusione appunto della cultura K-pop non solo in Italia ma è molto diffusa anche nel resto del mondo però sì, diciamo che c'è un reciproco interesse delle due culture. Questo anche è testimoniato dal fatto che nella sola Seoul ci sono più di mille ristoranti italiani quindi è la cucina più diffusa la cucina straniera più diffusa nel paese. Brondi, lei prima parlava della vicinanza e immagino che ci siano problematiche molto diverse tra Paesi Bassi e Italia rispetto a quelle che ci sono con la Corea e l'Australia. Si fanno anche delle importazioni, come posso dire, dirette cioè alcuni ristoranti che cercano magari prodotti in nicchia prodotti particolari oppure magari particolarmente legati ad una zona che loro conoscono bene magari importano direttamente queste piccole quantità di prodotti e i trasporti e la logistica riescono assolutamente a portare avanti questo tipo di cose anche se in realtà quasi tutti si acquistano dagli importatori o dai grossisti insomma c'è una distribuzione estremamente organizzata quindi da quel punto di vista lì siamo quasi mercato domestico si trova veramente di tutto e di più io vivo qui da tanti anni all'inizio partivo proprio come l'immigrante con le latte d'olio, il pezzo di formaggio la mamma mi metteva il latte congelato adesso li trova adesso meno direi adesso si trova insomma sopravvivo ecco Bene, grazie, torno da lei le faccio una domanda qual è il deterrente maggiore o più efficace nei confronti del fenomeno secondo la sua esperienza? In Australia c'è una grandissima attenzione al cibo sano, salutare e anche a tutte le esigenze alimentari ma il fatto che l'Italia abbia moltissimi prodotti biologici il fatto che l'Italia abbia una metodologia strutturata quindi parliamo ancora una volta di indicazione di origine geografica nella produzione di tantissimi dei nostri prodotti è una narrativa interessante per l'Australia Questo è un bellissimo punto perché dimostra che lo stile italiano non è solo una questione di immagini, cultura, sour vivre eccetera eccetera ma è sostanza cioè proprio quello che c'è dentro il cibo che fa una differenza grossa sulla salute in qualche maniera, Juman, le facciamo la stessa domanda cioè come la Camera di Commercio si muove e non solo la Camera di Commercio naturalmente nel vostro paese come operate in questo senso? Come riuscite a spiegare il vero cibo italiano nel vostro paese? Beh, un modo per comunicare in maniera effettiva è proprio il progetto True Italian Testi quindi con tutte le varie attività che stiamo facendo da quasi due anni è sicuramente una comunicazione forte sul progetto e sulla tematica informare le persone credo che sia la strada più efficace poi per combattere questo fenomeno Grazie mille noi vi ringraziamo molto, no Cristiana? Abbiamo fatto un altro viaggio in giro per il pianeta Molto, molto molto interessante vi ringraziamo per essere riusciti a collegarvi a partecipare vi auguriamo un buon proseguimento dunque A qualsiasi fuso orario Esatto Della notte Viva il cibo italiano Grazie davvero Grazie davvero